E' una guerra a distanza che si consumerà in un'aula di tribunale a suon di denunce e controdenunce, il caso Cirso. L'ex presidente Luciano D'Amico replica le ultimissime dichiarazioni dell'attuale presidente del Consorzio dei rifiuti Angelo Di Matteo e ribadisce la superficialità delle scelte operate negli ultimi quattro anni, rammentando il disastro in corso e quel prefallimento che, dopo il fallimento di Soggesa di due anni fa, suona come un vero e proprio piano, ma di chi e soprattutto. Da questo disastro chi ne guadagna e chi ne guadagnerà? Questa è una domanda da rivolgere davvero al presidente Di Matteo. Noi lasciamo un gruppo in forte ripresa. Questo gruppo un pezzo alla volta è stato smontato. E' stato smontato in quattro anni di gestione, qui ho partecipato Di Matteo. Alla domanda se la gestione di questi ultimi quattro anni segue un piano ben preciso, D'Amico risponde così. Io non saprei dire se è un piano o non è un piano. Certo, mi limito a prendere atto che dopo quattro anni la parte pubblica è costretta ad uscire ad abbandonare il mercato. Chi ne guadagnerà si vedrà, ma mi stupisce che invece che fornire una risposta a questi temi, si vada a cercare una giustificazione assolutamente pretestuosa. Un pretesto ad hoc, secondo Luciano D'Amico, per spiegare l'inspiegabile. Perché oggi il presidente attuale di Cirso vorrebbe dirci che tre anni fa ha firmato un documento con cui ha assunto liberamente l'impegno, il debito nei confronti di un'impresa privata e oggi candidamente ci dice che successivamente alla firma di questo documento ha svolto delle indagini e si è accorto, qualche anno dopo, circa tre anni dopo, che forse quel documento non andava firmato. Intollerabile per D'Amico l'atteggiamento assunto da Di Matteo, impegnato, dice a precostituirsi una sorta di difesa, un alibi, rispetto ad impegni assunti. Non è giustificabile che una società pubblica liquidi due milioni e mezzo per riacquisire le quote di una società che poi la stessa società pubblica fa fallire. Poi la domanda finale da girare però all'attuale presidente del Cirso. Sarebbe bene che Di Matteo ci spiegasse lui chi ne ha guadagnato dai quattro anni della gestione che lo ha visto coinvolto, prima come consigliere e poi come presidente.